Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando dell'avvertenza FIMER. Oggi era un giorno importante per gli oltre 300 lavoratori del gruppo che, come sappiamo, ha due stabilimenti, uno a Terranova Bracciolini, dunque nella Rettino, l'altro a Vimercate, invece a Monza e Brianza. Oggi è stata diffusa la notizia che l'attuale proprietà ha accettato l'offerta del fondo afferente a McLaren, questa la prima notizia. Poi il fatto che gli stipendi di aprile, che erano stati sospesi, lo ricorderete, verranno pagati nelle prossime ore, ma soprattutto la notizia sull'udienza, che era appunto fissata proprio nel giorno di oggi per la revoca del concordato. E allora sentiamo com'è andata in questo servizio di Chiara Sadotti. A dimostrazione che questa è stata un'avvertenza dura, che probabilmente ancora non è finita, perché comunque ci saranno altri passi da fare. Quello che emerge dall'udienza, e McLaren ha detto una cosa sola, noi abbiamo presentato la nostra offerta, siamo qui perché non volevamo che questa azienda si spengesse perché siamo interessati a entrare con un'azienda che può ancora vivere e che ha continuità, chiediamo una cosa sola, che ci sia pace sociale. Se la FIMER ci garantisce pace sociale, noi siamo pronti a intraprendere un percorso per rilevare poi e integrare la FIMER nel gruppo McLaren. Possono finalmente tirare un azzospiro di sollievo i 280 lavoratori della FIMER dopo che l'azienda ha accettato l'offerta McLaren. È un anno e mezzo che stiamo lottando in questa avvertenza e le notizie che ci giungano oggi non ci possono che fare piacere. Queste lacrime sono di tutti. Dopotanto sembra che ci sia anche il sole, anzi se ancora, insomma, è bene essere un piatti per terra. Già nella mattinata l'azienda aveva comunicato di aver accettato l'offerta dell'unico investitore rimasto. Dopo un mese e mezzo e tre consigli di amministrazione e mezzo si arriva in fondo alla conclusione di una questione che si poteva essere conclusa probabilmente un mese e mezzo fa e quindi proprio perché ci è voluto un mese e mezzo e tre consigli di amministrazione noi rimarremo vigili vedendo quello che succederà nei prossimi giorni. A dare l'ultimatum era stato il giudice fallimentare del Tribunale di Arezzo che aveva anticipato ad oggi l'udienza con i creditori per la revoca del concordato preventivo atteso adesso il via libera del Tribunale di Arezzo. Se fosse positiva come l'auspicio McLaren si è impegnato all'emissione di capitali che sono essenziali a garantire la continuità aziendale. Ed intanto sarebbero in arrivo gli stipendi di aprile. Domani verranno pagati gli stipendi perché la priorità nella gestione di una grande impresa in crisi oltre evidentemente alla continuità sono i lavoratori. E siamo alla cronaca turisti in Casentino con le valigie piene di merce rubata sono stati i carabinieri della compagnia di Bibbiena in particolare quelli della stazione di Poppi supportati dai colleghi di Talla a rintracciare queste tre persone di età compresa tra i 32 e i 38 anni due uomini e una donna. Dopo le verifiche durante il controllo sono emersi orologi preziosi nascosti nelle fodere di alcune borse e un pc portatile e una macchina fotografica. Per questo uno dei tre è stato arrestato mentre per gli altri è scattata la denuncia per concorso in ricettazione. Controlli anche nel fine settimana, in questo caso in Valdarno con cinque pattuglie impiegate delle compagnie di San Giovanni Valdarno impegnate tra Montevarchi, San Giovanni e Terranova Bracciolini. In tutto sono stati controllati 56 veicoli e 98 persone. Un ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica. Aveva appunto oltrepassato la soglia consentita di tasso alcolemico nel sangue. Quattro persone invece sono state denunciate per rissa a Montevarchi. E un 57enne è stato trovato a Girovagare in stazione a Terontola sulla sua testa però pendeva una condanna ad un anno, otto mesi e 25 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo ai reati di lesioni personali, danneggiamento e porto di armi e oggetti atti ad offendere. È stato dunque fermato e arrestato dalla polizia. Sospendiamo per un attimo appunto la cronaca e parliamo invece di Ponte Buriano, anzi di Ponte Romito. Quest'ultimo, secondo uno studio diffuso proprio questa mattina, sarebbe il ponte sullo sfondo della Gioconda. Ma ovviamente a Ponte Buriano dicono un secco no. Dietro il Ponte Buriano c'è uno studio scientifico severo condotto con i criteri scientifici più aggiornati da Carlo Starnazzi, approvato dai più esperti leonardisti di mezzo mondo e che ancora si venga a tirar fuori altre storie è veramente… non so se il riso o la pietà prevale, dice Leopardi. Non ci stanno a Ponte Buriano a farsi dire ancora una volta che quello che è alle nostre spalle non è il ponte della Gioconda. A sostenere che il ponte sullo sfondo della Monnalisa è Ponte Romito nel comune di Laterina e non Ponte Buriano che si trova nel comune di Arezzo, è una ricerca coordinata e presentata dallo storico Silvano Vinceti. La ricostruzione virtuale del ponte, sostiene lo studioso, realizzata in base alla larghezza dell'Arno nel tratto in cui si trova il ponte Romito, evidenzia una forte similitudine con il ponte presente nel ritratto. Lo stesso si può affermare per la forma e la grandezza dei quattro archi. Su Ponte Buriano ci sono invece gli studi di Carlo Starnazzi e a suo tempo avvalorati dal soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, Paolucci, da Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale di Vinci, da Martin Kemp del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Oxford fino al direttore della National Gallery di New York. Aspetta, Carlo Petretti, perché è il numero uno nel tempo e nel mondo, direttore dell'Ammer Center dell'Università della California. Fino all'ultimo momento è stato poi... da quando hanno fatto il simposio internazionale di due giorni? C'era Petretti, Kempe, poi Brown. I maggiori studiosi di Leonardo hanno convenuto che lo studio di Starnazzi era uno studio documentato, aveva parecchi certezze. I rostri che ci sono qui sono più che sufficienti, perché è stato dimostrato da fior di studiosi di livello internazionale che questi rostri sono esattamente la ragione per cui il ponte sta su e sono riprodotti nel ponte della Gioconda. Io credo che il ponte Buriano non lo possa scalzare nessuno con gli studi e le pezze d'appoggio che ha dietro le spalle. Attivarsi nei confronti del Parlamento affinché si valuti la possibilità di costituire una commissione parlamentare di inchiesta avente per oggetto le pratiche medico-sportive che hanno interessato atleti e calciatori negli scorsi anni con particolare riferimento al periodo antecedente l'adozione delle normative di contrasto al fenomeno del doping. È questo l'impegno che si è assunto alla Giunta regionale contenuto in una mozione approvata proprio oggi a maggioranza dell'Aula e proposta dal Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. La mozione trae spunto da diverse tragiche vicende, tra cui quella di Bruno Beatrice, ex centrocampista dell'Arezzo, della Ternana, della Fiorentina, del Cesena, del Tarato e del Siena che chiuse la sua carriera nel Montevarchi, deceduto poi nel 1987 ad Arezzo per una leucemia acuta a soli 39 anni. A scuola di soccorso sono stati superati i 110.000 studenti formati grazie all'impegno delle misericordie. Il progetto compie oggi 5 anni e in tutta la regione raggiunge numeri record. Arezzo è la seconda provincia proprio per numero di partecipanti. Lezioni differenziate in base all'età degli studenti, dai consigli di un orsetto saggio per i piccoli al defibrillatore invece per i maturandi. Nell'anno scolastico che si sta ormai per chiudere, gli studenti formati sono oltre 20.000 in tutte le province toscane. La provincia con più studenti formati è quella di Firenze con 6.555, seguita appunto da Arezzo con 2.738. Un nuovo comitato scientifico per la Fondazione Cesalpino. Conosciamolo nel prossimo servizio. Nuovo comitato scientifico per la Fondazione Andrea Cesalpino, 11 i medici e come direttore, riconfermato per i prossimi tre anni, l'attuale direttore di pneumologia dell'ospedale San Donato, Raffaele Scala. Per noi è un onore avere riconfermato il dottor Scala come coordinatore del comitato scientifico che per noi è un organo importantissimo perché se la Fondazione può fare qualche cosa lo deve fare ascoltando le esigenze, i bisogni che solo i medici, solo questo gruppo può indicarci. Quindi benvenga questo lavoro, benvenga anche i nomi delle proposte e benvengano anche le decisioni. Sicuramente l'obiettivo, lo stavamo dicendo in questa riunione, è quello di mettere al centro i bisogni, ma effettivamente dal punto di vista reale, del cittadino, di tutti noi che possiamo avere bisogno ovviamente di qualsiasi tipo di operatività nel campo sanitario. Qui abbiamo come partnership e siamo al servizio della Fondazione Cesarpino, pur essendo ovviamente dipendenti dell'azienda sanitaria. Quindi effettivamente è una commissione di capacità, di expertise e di interventi che devono essere carattere trasversale in cui tutti gli operatori sanitari che abbiano la possibilità di dedicarsi a questi tipi di progetti che stiamo discutendo e stiamo condividendo possono e devono partecipare. Un impegno costante è quello della Fondazione Anche nella Ricerca Clinica, che contribuisce in modo sostanziale alla qualificazione dell'ospedale San Donato con l'inserimento di giovani laureati al fianco dei professionisti esistenti per sviluppare e applicare cure mirate di nuovissima generazione. E adesso invece parliamo di giostra del Saracino perché per un maestro di campo che si impegnerà per la prima volta con questa importante carica nella giostra di giugno, ovvero Gabriele Veneri, ce n'è uno, anzi un vice maestro di campo che invece declina questo invito. Si tratta di Fabio Butali che dice non sarò complice di un meccanismo inceppato dopo la formalizzazione delle nomine da parte della magistratura ha appunto rassegnato le sue dimissioni nelle scorse ore non potevo fare altrimenti, dice Butali io le regole le faccio rispettare, non posso non rispettarle per primo non ho nulla nei confronti di Gabriele Veneri credo però che se si vuole creare una squadra di lavoro con una progettualità e una strategia ben definita questo non sia il modo giusto e allora sentiamo proprio Gabriele Veneri non su questo ma su altri argomenti il fatto che sia stata un po' accumunata la giostra al mondo della politica Gabriele Veneri risponde così, sentiamo avere il pretesto per parlare del maestro di campo e per dire che la giostra è stata politicizzata o che la giostra risente di questa cosa della politica insomma mi sembra un po' pretenzioso e fuori luogo non ci sta Gabriele Veneri ad accostare la politica alla giostra del Saracino troppo rispetto, troppo amore per questa manifestazione nella quale a giugno si appresta a rivestire il ruolo del maestro di campo io penso che, no penso, ne sono certo nessuno è andato a chiedere niente del mio partito io prima di essere un uomo di politica sono un uomo di giostra io ricordo che ho esordito nel 93 con i colori di Porta del Foro ma mi ero vestito da Paggio a Porta Santo Spirito vengo da una famiglia di giostre dove se non ero è uscito proprio un sondaggio dopo la famiglia Vannozzi, la famiglia Veneri è quella che ha vinto e anche ha partecipato a Più Giostre nella storia del Saracino quindi sono quello che ha vinto Più Giostre nel quartiere di Porta del Foro come giostratore il mio babbo faceva il giostratore io penso che, insomma, parlare di Gabriele Veneri politico quando gli viene dato un incarico all'interno della giostra della manifestazione credo che sia un pretesto per fare delle polemiche non so questa gente, e non mi riferisco a questo tuo collega non so questa gente che scrive nei social o che ha preso questo momento per dire la propria e io ti posso dire che sono per la libertà quindi ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni però non credo che questa gente abbia così amore per la manifestazione perché credo che di giostra se ne possa parlare in tantissimi aspetti dal sociale, dalla vita dei quartieri alla giostra stessa, a chi vince, a chi perde ai colori, ai musici, ai sbandieratori poi si può parlare del maestro di campo però ecco, avere il pretesto per parlare del maestro di campo e per dire che la giostra è stata politicizzata o che la giostra risente di questa cosa della politica insomma mi sembra un po' pretenzioso e fuori luogo e la nostra lunga intervista proprio con Gabriele Veneri la potrete poi sentire all'interno della nostra programmazione perché riguarda una puntata proprio specifica della nostra trasmissione Coffee Time che appunto abbiamo realizzato con l'ex giostratore a giugno maestro di campo adesso siamo invece alla cultura ci sono anche gli scatti del disegnatore di Tex Fabio Civitelli in mostra al Circolo Artistico di Arezzo sentiamo perché nel prossimo servizio diciamo fumettista per professione e fotografo per passione certamente la fotografia ha un po' una valvola di sfogo dopo tante ore al tavolo da disegno un po' mi aiuta anche nel disegno perché l'idea di comporre la composizione dell'immagine è molto simile tra il disegno e la fotografia solo che nel disegno troviamo un foglio bianco e mettiamo gli elementi che vogliamo noi nella realtà bisogna cercarli anche gli scatti di Fabio Civitelli fumettista ed illustratore storico disegnatore di Tex in mostra al Circolo Artistico di Arezzo una collettiva dei membri del gruppo La Pieve Arezzo un'esposizione che ormai si ripete da ben 30 anni raccoglie l'inedito e il lavoro nuovo di un gruppo di amici appassionati il gruppo fotografico La Pieve che mostra quello che ha prodotto di nuovo cioè non sono cose di archivio sono sempre lavori nuovi a volte diversi perché non sempre si fa le stesse foto e tutti gli anni ci prendiamo la galleria del Circolo Artistico che ci dà questo spazio è diventato un po' un appuntamento rituale della fine di aprile, primi di maggio a me piace la street photography per cui mi piace così cogliere degli aspetti spesso ironici quando riesco a coglierli e metterli sul mio sensore della mia macchina fotografica e poi farli vedere mi piace mettere in relazione le persone con l'intorno con quello dove le persone vivono e dove si possono cogliere degli aspetti spesso ironici o divertenti o particolari Ed infine siamo allo sport partiamo dal rugby in questo servizio di Sharon Carraturo vi raccontiamo come è andata la trasferta di Piombino Una domenica di successi quella appena trascorsa per il Vasari Arezzo Rugby nella penultima giornata di campionato per la categoria Signores il Vasari Arezzo Rugby vince a Piombino contro i mascalzoni del canale con un risultato finale di 19 a 42 in questo modo il Vasari Arezzo Rugby resta saldamente ancorato al secondo posto della classifica con un punto di stacco dalla prima le immagini che state vedendo si riferiscono al torneo sempre disputato domenica scorsa a Livorno I am a Lion un torneo dedicato al settore giovanile i ragazzi del Vasari Arezzo Rugby si sono piazzati rispettivamente al terzo posto per quello che riguarda la Under 9 e al sesto posto per quello che riguarda l'Under 11 Chiudiamo con una notizia che riguarda invece il ciclismo è stata presentata a Castiglion Fiorentino la Coppa di Castiglion Fiorentino alla presenza anche di Daniele Bennati il CT della Nazionale Tutti in sella per la ventesima Coppa Città di Castiglion Fiorentino la gara ciclistica Elite d'Under 23 una manifestazione sportiva di respiro internazionale è un appuntamento fisso da oltre 20 anni e che quest'anno vede tante squadre sia nazionali che internazionali partecipare la manifestazione andrà a arricchire gli eventi sportivi del Maggio Castiglionese colorano un Maggio Castiglionese già abbastanza nutrito di attività e di eventi ma il secondo fine settimana di Maggio tradizionalmente è proprio quello dedicato al mondo sportivo delle due ruote La gara partirà sabato 6 maggio alle 12.50 da Porta Fiorentina toccherà diversi punti del territorio castiglionese per un totale di 4 giri ed oltre 25 chilometri è una gara molto importante perché quest'anno ha trovato nel calendario una di quelle date importanti ci sono già 200 iscritti con squadre di altissimo livello se lo merita la gara e quindi sicuramente verrà fuori una di quelle gare importanti combattute e poi qui in questo scenario che è sempre bellissimo e quindi siamo molto contenti Domenica 21 maggio infine in scena nella frazione di Broglio la gara ciclistica Juniores organizzata dal fans club Daniele Bennati è una gara molto bella, molto importante quest'anno con un tratto di sterrato inedito perché lo scorso anno aveva vinto tra l'altro un giovane molto interessante Raccagni che quest'anno poche settimane fa l'ho convocato per il Giro di Calabria quindi bene c'è bisogno di queste manifestazioni anche perché i giovani sono il futuro e visto che non passiamo un periodo felicissimo queste manifestazioni sono molto importanti poi insomma Marino Amadori è più esperto rispetto al sottoscritto per quanto riguarda la categoria del 23 so che ci sarà e quindi bene così è tutto per questa edizione della nostra cronaca retina grazie per la cortesia e attenzione vi lascio con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti